Ciao a tutti, io sono qui per dare i numeri e per parlare della fine della scuola come la conosciamo fino ad adesso. Il primo numero è 78, che è il voto medio di maturità degli studenti del liceo scientifico di Lussana di Bergamo, che si sono diplomatici con il metodo impara digitale. Ogni mattina entrano in classe, si dividono in gruppi e sostanzialmente creano un ebook sull'argomento che stanno studiando. Un esempio, stanno facendo la rivoluzione francese, un gruppo fa l'assemblea della pallacorda, l'altro fa la presa della bastiglia. Cosa usano? Non usano un solo libro di testo, usano decine di fonti, sia cartacee, sia digitali, grazie ai loro tablet. Assemblano tutto quanto, poi ogni studente dà l'ebook del proprio gruppo e poi gli altri gruppi. Tutti gli studenti, dopo aver lavorato in modo collaborativo, studiano anche il lavoro dei propri compagni di classe. Poi l'insegnante che li ha aiutati in questo delicato, complesso compito, arriva e SAC l'interroga. Cosa succede? Funziona? Beh, funziona, lo vediamo dal voto medio di maturità. E' finita la pacchia, lo studente, noi studenti non possiamo più stare a cincischiare e a farci i cauli nostri in ultima fila. L'intero percorso formativo diventa attivo, devi creare. E se per caso hai l'influenza, nessun problema, sotto il tuo piumone, da casa, puoi seguire e partecipare col tuo tablet attivamente alla lezione. In questo modo gli studenti non imparano solo la presa della bastiglia, imparano anche a vivere da cittadini di internet, cioè ad avere a che fare con ogni giorno decine, se non centinaia, di flussi, input. Bisogna avere un po' di senso critico. La tecnologia non fa mai la differenza da sola, vediamo in questo caso la fanno il metodo e sostanzialmente gli insegnanti. 203 milioni. Mentre parlo, proprio adesso, il contatore delle lezioni di Khan Academy, il sito creato da un geniale trentenne indiano, Salmon Khan, è arrivato a 203 milioni di video lezioni erogate gratuitamente a persone in qualsiasi paese della terra e in qualsiasi ora della giornata. Questa sì che è una nuova età dell'oro, è un'età dell'oro in cui una mattina qualcuno si sveglia, ha un'idea culturale, la realizza e questa idea può avere impatti su centinaia di milioni di persone. Vi consiglio di andare a vedere il sito. Vediamo che diamo i numeri e qua abbiamo un 14. 14 è l'età che avevamo quando abbiamo creato il project, una scuola gratuita online in cui chiunque può insegnare al prossimo quello che sa in un'ottica di libera condivisione delle conoscenze. Dal teorema di Pitagora all'educazione sessuale, da William Shakespeare a Italo Calvino e a insegnare sono sia perfetti sconosciuti, persone che si mettono davanti alla webcam e iniziano a parlare di dolce e stil novo, sia i massimi esperti italiani della materia, quindi professori, esperti, giornalisti, professionisti. Tutto questo per condividere le proprie conoscenze. Chi giudica le lezioni è la community con i voti e col buon senso che non sbaglia mai, altro che è il comitato scientifico. Vediamo qua cosa abbiamo. Qui abbiamo 1000 che è il numero di ore effettive di formazione gratuita erogate da il project ieri. 27. 27 sono gli euro che sono serviti nel 2004 per creare il project. 27 euro che sono circa 21 cappuccini senza né cacao né cannella. Poi abbiamo due, due che sono, se ne parlava prima, sono i divani nel mio soggiorno. Il soggiorno da qui in 10 persone facciamo oil project e gli italiani che negli ultimi 12 mesi hanno visto almeno una lezione su oil project, sia in diretta sia in differita, ripeto, su qualsiasi argomento, dalla letteratura alla chimica, sono 250.000. La scuola che sogniamo noi non costa nulla, puoi entrarci sia da Torino sia da Enna anche alle 3 del mattino. È una scuola che corre alla tua velocità perché sei tu a decidere di cosa parlare e a rispondere alle domande non sono solo i docenti, anche i docenti, sono anche i compagni di banco. La scuola che abbiamo in mente noi è una condizione mentale, una condizione mentale come quelle cose che ha un primo sguardo tipo radice di meno uno, ti sembra una follia poi a un certo punto una soluzione la si trova sempre. Cosa andrà online? Andranno online le lezioni frontali, andranno online le lezioni che gli insegnanti di anno in anno, a prescindere dalla classe che hanno davanti, fanno uguali, quelle andranno online. Andranno online il lavoro collaborativo tra studenti in modalità wiki e finalmente nelle classi fisiche rimarrà il tempo per fare quello che non abbiamo mai avuto il tempo di fare, e cioè le discussioni, il confronto tra gli studenti come fanno a Bergamo con ImparaDigitale, il confronto tra gli autori che studiamo, i ragionamenti. Perché per fare un ponte servono i numeri complessi? Come ci si orienta nel malasma, nell'information overload di internet? Che cos'è questa assonanza che io lettore sento ad esempio fra un confronto tra autori, tra Kafka e Buzzati? Che cos'è? Ecco, io non so come sarà la scuola del futuro perché appunto come vi dicevo prima faccio siti web in onoroscopi, quindi esattamente non lo so, però so che c'è da sperimentare moltissimo, da lavorare tantissimo e che nulla succede per caso. Gli imprevisti vanno concordati in anticipo e non dobbiamo avere nessun tipo di pregiudizio perché quando l'unico strumento di cui si dispone è un martello tutto tenderà ad assomigliare a un chiodo, quindi stiamo attenti. Grazie mille e buona serata a tutti.